Un cordiale saluto a tutti voi, buongiorno e benvenuti cari telespettatori di FanoTV alla consueta rassegna stampa del mattino in diretta alle 7 in replica anche durante la mattinata sul canale 17 ma sempre disponibile su occhiolanotizia.it oppure sulle nostre pagine Facebook e Youtube Benvenuti dicevo a Occhio ai Giornali, il commento alla stampa del giorno, oggi è lunedì, lunedì 6 settembre andiamo subito a vedere il Santo, oggi è San Zaccaria, il sole è sorto alle 6.38, tramonterà alle 19.39 adesso uno sguardo al tempo col sito della protezione civile Questa mattina cielo parzialmente nuvoloso con transito di velature, nubi cumuliformi non ci saranno precipitazioni ma vedete insomma un po' di nuvole qua e là ma niente di che per domani cielo sereno su tutta la costa, ancora nella parte centrale della giornata condizioni di tempo stabile Oggi naturalmente c'è lo sport con la vittoria all'Eurovolley della nazionale italiana femminile di pallavolo e naturalmente sapete tutti che a guidarla c'è l'allenatore Mazzanti Mazzanti che è marchigiano quindi insomma di nuovo sul tetto d'Europa dopo Mancini, Jesino, Mazzanti Di Marotta, per lui grande festa al ritorno e vedremo anche sui giornali come descrivono come parlano di questo importante appuntamento ed evento sportivo Ma ci sono anche altre notizie, allora andiamo a vederle Vi anticipo già che abbiamo inserito, ho inserito anche due quotidiani, due prime pagine che non sono il resto del Calino e il Corriere Adriatico perché sapete che chiaramente l'informazione a livello nazionale è quella che è, vi raccontano e ci raccontano soprattutto sulla questione della pandemia, dei vaccini e quant'altro un'unica storia alla quale non tutti però credono e allora giustamente è diventato ormai necessario vedere anche qualche altra pagina A dire il vero i giornali sono tutti schierati con il governo quindi ce ne sono pochissimi, uno, due, ma sicuramente uno cioè la verità che andremo a vedere tra poco e poi anche qualche sito internet, qualche prima pagina perché anche lì i siti internet sono tutti schierati con un'unica narrazione che è quella filogovernativa pochi ma seri siti parlano invece, vi fanno sentire l'altra campana e allora daremo uno sguardo anche a questi credo che sia diventato necessario anche per il sottoscritto che non può fare un commento alla stampa ovviamente tenendo due giornali che vanno contro il pensiero che ho anche io e allora andiamo a vedere, cominciamo dal Carlino di Pesaro questa è la fotonotizia, dicevamo, di marotta in festa per Mazzanti il vice acclamati dopo il trionfo agli europei gli eroi di Belgrado questo è il titolo dove c'è appunto Davide Mazzanti con il vice Matteo Bertini che sfilano su questa 500 azzurra e attorno a loro ovviamente la festa Novilare invece, il cimitero della vergogna il titolo dell'edizione pesarese Bari a cielo aperto, cornicioni caduti ma nessuno interviene la denuncia di Malandrino, consigliere di Fratelli d'Italia A Fano invece, colpo shock al centro commerciale banditi sfondano coi furgoni a riete fanno lo slalom tra i negozi prendono il bancomat e non riescono però ad aprirlo mentre anche qui, sempre dalla prima del Carlino Aquiloni da trofeo, la contrada del monte vola più lontano di tutti la festa degli Aquiloni e di Urbino le elezioni comunali invece accoglie al Metauro la sfida di Curina, lista giovane per cambiare la tassa rifiuti, la scadenza Tari si avvicina previsti incassi per 19 milioni di euro il comune di Pesero poi ha danneggiato quell'auto paghi finto avvocato tenta la truffa la vittima però non ci casca sotto lo sport, VL dà spettacolo però passa brindisi mentre il calcio vissa avanti gli due gol ma la vittoria sfuma nodo organici per la scuola il titolo d'apertura invece del Corriere Adriatico sempre l'edizione di Pesero i controlli legati al Green Pass fanno emergere nuove esigenze i presidi chiedono più personale non solo collaboratori e ATA ci sono dei docenti che stanno valutando il periodo di aspettativa la foto notizia anche qui il Corriere Adriatico decide di pubblicare questa immagine festosa di Mazzanti e del suo vice l'oro del volley donne parla Mazzanti e festa marotta io l'altro CT marchigiano campione mentre il report nelle Marche 48 comuni covid free incidenza giù sotto bivacchi selvaggi in parchi e giardini residenti esasperati siamo a Pesero a Fano invece assalto al Bancomat con furgone a riete al centro commerciale e sempre da Pesero Ricci gran lavoro nel PD e Luca ovviamente Ceriscioli deve essere della partita poi lo sport per la WLKO di misura con il Brindisi e la serie C di calcio visse dal 2 a 0 al 2 a 2 tra gli infortuni Tonso e Coppola finiscono all'ospedale e allora apriamo adesso la prima pagina della verità la prima pagina della verità apre con questo titolo non se ne esce Israele alla quarta dose il responsabile della campagna vaccinale dello Stato ebraico accenna apertamente alla necessità di prepararsi ad un'altra serie di iniezioni mentre nel Paese è in corso la terza ma se questi e questa è la domanda ma se questi medicinali sono meno efficaci del previsto quanto andremo avanti oggi l'incontro tra sindacati e confindustria verso la richiesta di una legge sull'obbligo vaccinale intanto Mattarella il vostro Presidente della Repubblica dice lancia un altro appello sulle punture dice guai a tirare in ballo la verità non sia mai che i cittadini che a questo punto potremmo definire sudditi parlino di libertà assolutamente le interviste invece del lunedì sempre della verità Nicola Porro dice vado in tv torno in televisione per fermare i sacerdoti del terrore covid e poi interessante anche questo articolo di Maurizio Belpietro che è il direttore della verità che parla del Ministro della Salute Speranza che in un articolo del Corriere della Sera dice di voler innanzitutto restare umile poi però parla di promuovere un patto il patto di Roma che cos'è il patto di Roma è il piano per vaccinare vaccinare praticamente tutto il mondo gli abitanti del pianeta questa è la verità mentre il tempo a parte la foto con il titolo finalmente sposi che si riferisce a Salvini e a Lameloni c'è il tempo di Osho che praticamente è questo qua sotto speranza il partito del terrore rischiamo un altro lockdown quindi vedete come ormai è tutto ovviamente la colpa è dei non vaccinati questo sottinteso e poi il virgolettato che chiaramente non sono parole del ministro ma ogni giorno il tempo per chi lo legge sa che pubblica queste frasi divertenti che fanno un po' sorridere ma voi veramente pensavate che con due punturine era tutto finito mentre per chi volesse attraverso i siti internet vedere sentire l'altra campana vi segnalo un sito che è la nuova bussola quotidiana che è un sito ben fatto un sito autorevole un sito di ispirazione cattolica il titolo di oggi d'apertura è no beffati dal vaccino è ora nel limbo senza green pass praticamente la storia di tutte quelle persone che hanno avuto problemi con il vaccino e che credevano al vaccino perché ovviamente chi si è andato a vaccinare ed ha avuto problemi di reazione avverse anche gravi non erano certamente no vax perché se erano lì a farsi vaccinare evidentemente ci credevano ora però dopo questi effetti avversi devono scontare la beffa di essere esclusi dal green pass la nuova bussola racconta queste storie come quella di Katia di Varese dove dice i medici escludono sia stato il vaccino e sospettano una linfo adenopatia preesistente ma io sono sempre stata bene ora il terrore della seconda dose e mi hanno messo in un limbo e tutta una serie di racconti addirittura c'è un dossier che racconta il giornale torniamo invece sulle nostre pagine locali andiamo sul Corriere Adriatico questo per dirvi appunto che se volete ascoltare vedere districarvi perché è difficile trovare anche siti che in qualche modo raccontano un'altra verità vi do queste informazioni in modo tale che poi ognuno liberamente possa andarle a leggere a cercare assalto al Bancomat e che non siano fake news e che non siano farlocca insomma assalto al Bancomat del Fano Center furgone a riete il GPS scove il bottino colpo alle 2.45 di notte poi la fuga in un casale di Carignano per asportare i soldi ma i carabinieri sono arrivati poco dopo avevano dunque preparato questo furto eseguendo dei sopralluoghi studiando attentamente le mosse da fare un gruppo di malviventi che voleva appropriarsi del denaro contenuto all'interno di un Bancomat situato nella galleria del centro commerciale Fano Center ma questa volta i carabinieri di Fano diretti dal capitano Maximiliano Papale hanno agito con grande tempismo impedendo che l'azione andasse a buon fine e qui c'è il racconto di Massimo Foghetti su come sono andate le cose mentre il resto del Carlino titola su questa stessa vicenda banditi al Fano Center assalto da far west slalom tra i negozi con due furgoni a riete sfondata una vetrina e prelevato un Bancomat lo vedete qui questo ATM piccoli nelle grandi città per esempio a Roma Milano insomma ce ne sono tantissimi ogni dieci metri ce n'è uno che però è dotato di GPS i malviventi non fanno in tempo ad aprirlo poi la fuga nei campi ancora dal Corriere Adriatico Baby Vandali la rabbia dei residenti bivacco selvaggio nei parchi e nei giardini qui siamo a Pesero non c'è soltanto Villa San Martino le incursioni anche a Celletta Pentagono e Villa Fastigi Amara sorpresa invece rientro a casa in sua assenza i ladri fanno razzia il colpo sabato sera in un appartamento di via bel gioioso lo vedono sbandare in autostrada scoprono che è evaso dai domiciliari venerdì scorso intorno alle 18.30 fermato nell'area di servizio del 14 l'area di servizio è più precisamente l'area Foglia e alla guida c'era un trentenne residente ad Ancona andiamo adesso invece a pagina 3 del resto del carlino Bare a cielo aperto la vergogna di novilare questo è il titolo il consigliere di Fratelli d'Italia Malandrino denuncia il degrado del cimitero muri scrostati scusate cornicioni caduti comune ed aspes devono intervenire queste sono alcune immagini con il cartello che indica appunto la zona interdetta a causa di cornicioni pericolosi dove è vietato attraversare la zona appunto recintata trovato invece e qui siamo sulla cronaca del Corriere di Macerata il corpo senza vita di Farabbi il 55enne era scomparso da due mesi i resti erano in un sacco a pelo nella zona del Farnio all'allarme è stato dato da un escursionista e dunque a quasi due mesi dalla scomparsa è stato trovato ieri mattina il corpo di questo 55enne di Villa Petignano in provincia di Perugia di cui non si avevano più notizie dalla serata di martedì 13 luglio la sua auto una Smart era stata trovata il giorno dopo a pintura di Bolognola ma dell'uomo esperto di montagna e appassionato di escursioni non c'era nessuna traccia ad Ancona invece pezzi di cemento volano in strada chiuso il ponte di via 25 Aprile intervento dei vigili del fuoco troppi rischi arrivano le transenne modifiche avviabilità e linea autobus positivo al covid scappa dal pronto soccorso dopo il test al porto un greco era stato portato alla torrette di Ancona rintracciato subito dopo dalla polizia la pagina di Fano invece del Corriere italiani e famiglie con figli luglio d'oro per il turismo estate di ripresa arrivi e permanenze maggiori del previsto parlano gli operatori gli operatori che si occupano appunto del turismo a Fano e il dato positivo appunto che insomma per ora è andato tutto bene le famiglie erano sono venute hanno deciso di venire a Fano anche con i figli insomma luglio addirittura d'oro quindi vuol dire che si sono anche fatti degli affari quindi l'economia locale cittadina ne ha risentito positivamente bandiere rosse comunisti in CGL stasera il circolo Gramsci svele il volume nella chiesa di Santa Maria del Gonfalone presenterà alle 21 il volume bandiere rosse i comunisti della CGL tra partito e sindacato a Durbino invece gli Aquiloni riconquistano il cielo la contrada del Monte stravince in gara 350 il migliore Berto Crinelli Miss Cometa Francesca Torcado e Federico Amadori per la categoria Under 14 sotto successo a Fermignano per il campus restivo la seconda edizione si concluderà sabato impiegati 20 istruttori Valcesano invece Mazzanti e Bertini Marotta ti ribaltiamo il ritorno dei due concittadini campioni d'Europa Cori selfie e sfilate in 500 blu sindaco e assessore con divisa italvolley sono andati all'aeroporto di Fiumicino per accogliere appunto Mazzanti e tutto il resto vittoria più bella accanto ad un amico così è fantastico Davide Matteo vicini di casa con lo stesso sogno mentre da Senigallia c'è assemblamento blitz nel locale scattano multa e cinque giorni di chiusura si balla senza distanziamento sul lungomare di Levante intervengono gli agenti di polizia del locale si balla senza distanziamento è fantastico insomma anche queste sono quelle scene che basterebbe soltanto fermarsi un attimo chiudendo gli occhi chiudendo gli occhi immaginandosi queste persone che dovrebbero ballare e stare attenti anche alla distanza perché altrimenti si rischiano le multe come poi effettivamente arrivano poi però ripeto nelle metropolitane sugli auto tutti come sardini senza ballare però tutti bocca a bocca e nessuno può fare niente perché lì il virus non c'è ovviamente è così vabbè sono quelle cose che ancora accettiamo senza battere ciglio perché siamo talmente rimbambiti che non abbiamo più neanche la forza di reagire in lacrime invece per Ramerini storico falegname Rino Ramerini che fondò 70 anni fa l'azienda di famiglia con il fratello Guido siamo sempre sulla pagina di Senigallia ed è morto sabato mattina all'età di 85 anni aveva fondato appunto nel 1953 la falegnameria Ramerini in via Botticelli alla Cesanella anche le api sono stremate dal caldo nutrite con le soluzioni zuccherine nelle Marche le produzioni di miele azzerate o di mazzate a causa della siccità sono 77 mila gli alveari in regione summit incontro per strategie e sostegno del settore andiamo ancora avanti siamo sulle pagine sportive velocemente pagina 5 del resto del Carlino Mazzanti e Bertini in trionfo Marotta li accoglie da eroi l'allenatore il vice acclamati a rientro dopo il trionfo agli europei di volle e sfilata sul lungomare a bordo di una 500 azzurra l'abbraccio dei tifosi sono nati a pochi metri l'uno dall'altro il sindaco è andato a prenderli a Roma il sindaco Barbieri per la VL invece ottimo inizio poi Brindisi sorpassa e vince Carpegna Prosciutto che perde 65 a 69 un test però incoraggiante per la Carpegna Prosciutto che però nel finale paga soprattutto l'effetto stanchezza Petrovic l'allenatore dice Jones ci darà tante soddisfazioni la VIS invece pareggia 2 a 2 e si morde i gomiti Biancorossi sul 2 a 0 con i gol di Marcandella e Tonso ma si fanno raggiungere dal Ponte d'Era una partita segnata dagli infortuni dell'Argentino e di Coppola entrambi finiti all'ospedale mentre sì questa era l'ultima pagina mentre non c'è altro da aggiungere e quindi se non quello che è l'appuntamento di questa sera c'è questo da aggiungere alle 20 e 30 con il telegiornale Occhio alla Notizia grazie per averci seguito buona giornata a tutti Grazie a tutti